Musica Bella a tutti ragazzi bentornati nel DOR channel Io sono Darlpunichi e benvenuti in questo nuovo video dell'addestramento in compagnia di Biggeroo Perfetto Allora oggi dobbiamo andare in miniera ragazzi perché non abbiamo più niente Manco la terra abbiamo Quindi allora innanzitutto dobbiamo procurarci Tante cose per la miniera Partiamo partiamo Allora tu fai picconi a volontà di pietra Se ce l'abbiamo Manco il legno abbiamo No Secondo me ce l'abbiamo sai dove? Dove abbiamo costruito l'isola volante Ah tra l'altro devo togliere Devo togliere Il nether brick è considerato come legno No Devo togliere l'obiettivo che abbiamo fatto ovvero l'isola volante Voilà E un obiettivo è stato fatto Mi raccomando continuate a scriverci gli obiettivi che volete vedere nei prossimi episodi Allora Oggi si va belli belli in miniera Tranquilli tranquilli Allora io sto andando Dove sta la nostra farm e tutto Perché mi sa che abbiamo lasciato le cose in una cesta lì Guardate quante pecore abbiamo Eh vedi un po' Poi inizieremo con le pixel art e tutte queste cose qua Devo mangiare pure le pecore visto che ci sei Che ci sei Adesso tu Allora il piccone Oh abbiamo la cobblestone qua Allora vieni direttamente qua porta il cibo Quale cibo Allora adesso lo raccolgo io Allora le torce ci sono Allora qua ci abbiamo le carote Vabbè tu porta più cibo che puoi Io raccolgo un po' di cose qua dalla farm di grano Eh intanto qua diluvia Perfetto Ah Facciamo un bel po' di panini oggi Per forza Perché se no stiamo messi veramente male Ragazzi grazie a Dio che abbiamo fatto questa farm eh Sì infatti Se no non avevamo Vabbè abbiamo gli allevamenti Però per ora non possiamo uccidere nessuno Perché ci serve per forza la lana delle pecore Oddio le mucche le potremmo anche uccidere sai Allora Eh però non so se ci basta il cibo per andare in miniera eh Allora mettiamo qua Allora vediamo qua che ci sta Così 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 Mi porto anche dell'acqua questa volta in miniera In caso di emergenza per lave o cose di questo tipo Allora intanto qua vabbè abbiamo già un buco non messo Due Perfetto Ah ci sta della carne da cucina Oh cucina 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 tutto Le patate oh Allora ragazzi io intanto faccio questo finisco di preparare tutto E ci becchiamo appena abbiamo finito Oh fra poco Ok ragazzi abbiamo trovato il luogo dove andremo a scavare Lui è già partito col carbone io intanto proseguo ferro Ottimo ovviamente Mi puoi dare dei blocchi da costruzione? Sì Che devo attappare l'acqua perché non è possibile avere l'acqua lì Ok Perfetto Allora io sto un po' più sotto Ma sto arrivando Ah sto arrivando Qua è finito Ok Prendiamo il ferro Ottimo Il carbone Il carbone lo prendi tu dai Ok se non l'ho detto il carbone Uh un mob spawner Oddio Oddio Chiudi Cosa chiudi? Che devo chiudere? Che ne so Non dobbiamo uccidere Cioè non dobbiamo rompere il mob spawner Però me lo riempio di torce Così non spawnano Madò Mamma Oh Grano Libro incantato E Sella Ci sta Secchio Silk touch Oh mio dio Questo qua è bellissimo Praticamente ti prende il blocco intero grezzo Vabbè io direi di lasciare tutta la roba qua Tanto più o meno ce lo ricordiamo dov'è spero Ma non ho capito cos'è il silk touch Praticamente prende tu il carbone e ti droppa il carbone quando lo prendi Uh uh Invece quello là ti dà il blocco intero E poi che ci fai? E poi se hai un piccone con fortuna Ti dà il doppio Ed è anche utile per rompere il vetro Capito? Ah wow Allora qua dobbiamo ricordarci di prendere la roba No veramente ci dobbiamo ricordare perché ci sono buone cose Adesso non me ne voglio portare con me in miniera Però che culo così un mob spawner a caso Ok Tanto più o meno la strada ce la ricordiamo Più o meno Sì per ora è dritta Insomma Ok io continuo a scendere giù Vediamo un po' cosa c'è qua sotto Allora mettiamo ferro Yes Prendiamo tutto il bellissimo ferro Allora tu continua a scendere nel frattempo a meno che non trovi il carbone Eh non ho torce però Eh tieni 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 Vabbè no c'è il carbone e i cosi me le posso fare Vabbè ti ho dato metà delle torce mie Vabbè me me le riprese Ah è finito il buco Non le ho prese Ah è finito il buco Bello No ferro Ah Allora Vabbè io questo mob spawner lo vorrei tenere Cioè in senso Ci potremmo fare una farm di zombie Cioè è buonissima E la farm di esperienze tra l'altro è anche uno degli obiettivi da fare Quindi direi qua Di tenercelo sano sano Tutto bello per noi Ok Voilà e voilà Le cose anzi faccio una cosa adesso Le prendo e le lascio qua fuori Onde evitare cose strane che ci dimentichiamo No col piccone con questa magari Voilà Ok questo buco l'abbiamo finito praticamente a esplorare tutto Sì è stato breve ma intenso allo stesso tempo Eh minchia abbiamo trovato un mob spawner Vedi che non è molto comune trovarli così È già il secondo in questa serie Tra l'altro l'altro non mi ricordo manco dove sta Ok qua faccio una cosa Vicino al coso ci lascio la cesta con la roba che abbiamo trovato Non me le voglio portare assolutamente appresso Ok Lasciamo Ah i semi di melone Bellissimi non me ne ero accorto Eh ci lascio il ferro pure Però lo perdiamo Bravo Te lo stavo per dire Lasciaci pure il ferro Il carbone me lo porto perché è possibile Vabbè io un po' l'ho lasciato Ok procediamo Guarda là vedo un altro impostato con la spaggia Dove? Dritto per dritto Oh mio Ah no qua già ci siamo stati Ah già ci siamo stati Tra l'altro siamo stati qua e non abbiamo trovato quel coso Va bene Infatti Oh Questa è una bella infossatura C'è tanto carbone C'è la lava C'è il ferro Ottimo Ottimo Tutto quello di cui abbiamo bisogno Che è? Sono questo Sì che è scatto Vabbè non fa niente rimango qui sotto Volendo ti puoi buttare anche tu se vuoi Aspettate vedete che ci sta qua Metto un po' di torno Oh un altro Un altro mob spawner Di scheletri Oddio Che ci sta qua? L'armatura d'oro Ragazzi ma che è oggi? Due mob spawner Merda L'hai distrutto Quello lo vuoi tenere pure questo No no voglio tenerli tutti E qua come lo facciamo a capire che sta il mob spawner giù? Ma fammi capire Eh Cioè tu mettendoci le torce impedisci che escano oppure ne escono di meno? No no impedisco che escano Ah Ok qui c'è un altro mob spawner Ci sono dei mostri vieni Vabbè uccidi Ah ma questo è il piano di sotto Eh ma non ce la faccio Gli scheletri non li so uccidere Arrivo Io ero al piano di sotto però qua C'è tanta roba Allora Allora questa lava mi sa di pericolo Ok Ho spento una buona parte Spegniamo di qua e di qua Ottimo Abbiamo fatto l'ossidiana L'hai ucciso? No Anzi mi sta uccidendo Vai via Di qua Morto Creeper ferro Allora continuo di qua a sto punto Va bene esplodi Fai quello che vuoi tanto Tranquillo Cioè non preoccuparti Cioè ragazzi mamma mia Mamma mia Quanta roba stiamo trovando Già due mob Due Ok qua è finito Cioè mica uno Cioè stiamo scherzando Ok andiamo da questa parte Tanto qua c'è tanto da esplorare È una bella grotta Mi piace Tra l'altro dobbiamo ancora scendere giù Dove stavo io che continuava Non è finito Sono risalito perché qualcuno aveva problemi Di rischio morte Dai vieni qua che scendiamo giù Eccomi Ok praticamente al piano di sopra Abbiamo fatto tutto Venghi venghi Allora io direi di fare un'altra cosa Anche qua Aspetta eh Lasciamo Anche il ferro a questo punto Eh stavolta non ho niente Andiamo Qua sotto Sì vedi sono sceso qua sotto Poi sono andato di qua Guarda Eccolo Incredibile Ah è finito pure qua il buco Perfetto Ah beh ci sta l'altro lato Sì sì infatti Andiamo dall'altro lato Però diciamo stiamo facendo piccoli ritrovamenti Sì Utili Cioè abbiamo già trovato un bel po' di cose Ah tra l'altro qua usciamo dove stavamo prima E poi per uscire fuori Perfetto E' tutto un circolo vizioso Ok puoi anche andare via da qua C'è solo del carbone Eh stiamo scherzando E che cazzo Lo lascia qua Vabbè allora facciamo una cosa Questa cesta non la tengo dentro Perché sono convinto di scordarmi Dell'esistenza di questa cesta Allora Io esco fuori ok Sto arrivando aspetta Vabbè prendo il carbone che c'è qui sopra Così ti anticipo un po' di lavoro Ottimo Sì Abbiamo preso già un po' di materiale ragazzi Almeno per stare Qualcosa Cioè non è che vogliamo tanto Sento zombie Potrebbe esserci un altro mob spawner Sicuramente Eh ma sento molti Oh ferro Questa miniera ha ancora tanto da offrire ragazzi Ok Merda stavo usando il piccolo diamante Non me ne sono accorto Vediamo un po' Qua sotto scendendo Sì Di qua Oh lo sapevo io che non sbagliavo Che cosa? Che c'era un continuo Vieni vieni Aspetta Fai andare avanti Fai esplodere il creeper Oh cazzo Aspetta aspetta Fallo esplodere ok Merda quanta gente Non scendere Non scendere Aspetta fammi Togliti fammi lavorare Togli Allora aspetta Quando ci sarà la via libera ti dirò di scendere Ok Aspetta Uh ferro Rimani su Rimani bravo Prendi il ferro Ok ok Intanto immagino senti esplosioni No ma io l'audio non ce l'ho Ah ok Perfetto Ok ho trovato un buon posto Puoi venire Ok vi rischio di vendere questo ferro qua Yes Dark ripulisce A me sto Sto alla tua altezza Ah Esci Che qua c'è un altro cratere lungo da esplorare Dove sta lui più o meno qua dovrebbe stare Ecco Andiamo andiamo Di là di là Dopo torniamo a prendere il carbone Ok Ulla va C'è del ferro Preso Allora Che altro c'è Oltre lo scheletro Dove sta? Ah no Ok Mo ci penso un attimo io Oh Vieni qua Vieni qua che continua Madonna quanto è grosso sto buco Dove stai? Sto ancora sopra Ok scendiamo giù Aspetta non vogliamo dire di qua che ci sta No ci servono i diamanti Ok morto C'è là ci sta un altro buco pure Eh lo so Non sai dove andare prima in queste situazioni Tu vorresti andare ovunque Ok qua Qua però pieno di creeper Eh Ho capito Basta che ne fai esplodere uno e poi esplodono anche gli altri Merda ma qua continua Oh mio dio Fatemi vedere Funghi No è finita qua Ok Dobbiamo scendere lì sotto Però io una piccola nota qua ce l'ho dallo stesso Io raccolgo il carbone qua Non si sa mai Dici tu che potrebbe capitare sempre qualcosa? Eh prima ho trovato Otto pezzi di ferro così Vabbè ma adesso noi puntiamo i diamanti Già Eh si vedi che i diamanti ci servono E poi ricordati che un diamante è per sempre È per sempre Andiamo? Ok scendiamo direttamente lì sotto Senza andare oltre Che quel Che quel Trippacidos Madonna quanto scende in profondità qua Spero solo che non finisca Infatti finisce Che dici scendiamo giù e poi scaviamo ancora da qui? Vai proviamo Eh ormai sono caduto Allora andiamo Non lo so proviamo Comunque dirigiti sempre verso il basso eh Magari Magari Non lo so Qualcosa ci uscirà O forse no Non c'è nessuno Coincidenze Ma Io non credo Ah io questo non credo eh Ok sto scendendo ragazzi Nel modo più pericoloso che ci sia in Minecraft Però Il pericolo è il mio mestiere Ah vabbè Io sono arrivato Io sono arrivato alla bedrock Ah siamo vicini Aspetta Aspetta dai che ci riuniamo Aspetta Aspetta Ah eccolo Perfetto Ok io direi di continuare a scavare qui intorno Qualcosa forse ci uscirà Boh Non lo so Cioè non ce lo so Eh bebetazza Qualcosa ci esce sicuro Che cosa? Eh bebetazza No qualcosa ci esce sicuro Tipo la lava qua Ok Io direi di svoltare Andiamo verso destra Tranquilli Perché lì c'è la lava Oh ferro Yes Il ferro ci serve Ci serve tanto Anche perché in teoria Per andare nel nether Ci dobbiamo fare almeno Full ferro incantato Che ricordatevi Che l'obiettivo del Wither skeleton Non è perso Non è abbandonato Ci abbiamo provato Abbiamo fallito Ma ci riproveremo E falleremo Giusto? Giusto Oh cazzo la lava La sei riuscito a chiudere? Sì Oro Che non serve a nulla Praticamente l'oro Ciupa Willy J Dove sei finito? L'ho sentito un piccolo rompersi Per caso sei tu? John Wayne Che ha parlato? Che cazzo ha parlato? Io sono il sergente maggiore Hartman Vostro capo istruttore Vostro pisello maggiore No ragazzi Ma lui è fissato C'è una mania Maniacale per L'organo sessuale Riproduttivo maschile E anche animale Addirittura Sì Pure zofilo quindi Sì Ma Ma io stavo andando completamente a caso Tu? O eri mirato alla tua cosa? No ti stavo seguendo Ah mi stavi seguendo eh Vedi che ti denuncio per stalking? Per stalkeramento Su Minecraft Uh Redstone Ma redstone ci può servire Lava Tarrò Finiti picconi Tutti? No uno solo mi è rimasto Come hai fatto? Tutto il carbone Opla Allora sotto di te c'è la lava Sappilo Proprio sotto? Sì sì proprio sotto C'è molta probabilità che ci sia la lava Io ti ho avvisato L'uomo avvisato mezzo morto Ma non mi posso scavare sotto? E allora non ce l'hai sotto Ce l'hai di lato Due sulle cose O è A o è Y e Z La 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 Mi sa che non la vuoi prendere col piccone di legno Di pietra Non lo so prova Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Nonostante sono ormai quasi 5 anni che gioca a Minecraft Ormai per me questo gioco non ha misteri Non è vero Ne ha tanti Perché escono ogni volta cacchio di aggiornamenti nuovi Tipo il fatto che non puoi spammare più con la spada come un animale C'è il fatto che devi caricare il colpo Sì Prima c'è Prima io uccidevo tutti Però spammavo come che E uccidevo tutto Invece mo no Tre ore Dai su Venga zia Fea C'è Fea Io ho quasi finito il mio secondo piccone E ho finito le torce ufficialmente A me è rimasta solo una di torce Diamanti Serio Sì Ma stai scherzando No Oddio Diamanti sì Allora mettiamo in sicurezza la zona Non scavare Mi raccomando attento a non scavare i diamanti col piccone No no Grande bingo Il cane da diamante Al posto il cane da tartufo Ok Ok qua non c'è lava Mamma mia diamanti sì Potrai avere anche tu una spada di diamante Tre Quattro Ottimo Ho tolto la torce Allora Mo Mo Onde evitare cagate che possiamo fare Mo On demand Sulla tv nazionale Ok Hai del legno per caso Certo Eh vengi qua Me lo dia No perché onde evitare Non voglio avere rischi e pericoli Questa sarà la nostra mini base Ok Faccio un po' di torce ok Ora quanto ferro abbiamo Io direi di farci Qualche Metti a cuocere il ferro Aspetta ci penso mi Ok Uh 59 di ferro Cioè c'è un bordello di cose Noi per ora ci facciamo solo il piccone Ma quello sì Ma tu non avevi quattro picconi scusami Sì mi è rimasto uno solo Vabbè ma tanto poi li facciamo di ferro Allora tieni nel frattempo Ti sta finendo? Sì Bottino ragazzi Proprio bello bello possente Grosso Noi vi ricordiamo Bellissimo Noi vi ricordiamo di mettere un bel pollicione in su Di iscrivervi e commentare E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 Ciao